Blogosfera ha il piacere di incontrare Cesare Gallo, director del Legnano Chapter Italy, benvenuto su Blogosfera, raccontaci un po' questo evento, ci troviamo qui a Orta con un sacco di Harley Davidson posteggiate e tante persone. Sì, questo è il nostro quinto anno di vita per cui abbiamo deciso di organizzare questo evento, il nostro anche primo evento, nonostante 5 anni di viaggi, di strada consumata e abbiamo organizzato un grosso evento nella nostra città che è Legnano e invece in questo momento ci troviamo a Orta San Giulio dove facciamo la pausa a pranzo in un bellissimo posto con tutti gli Harleyisti in terrazza a godersi un po' di pausa e di sole. Ecco, parlaci un po' dell'Harley Davidson, chi non conosce realmente la storia, vede queste moto bellissime ma non sa esattamente che è anche un modo di vivere, che cos'è l'Harley Davidson per voi? La Harley Davidson è una filosofia, è uno spirito di vita, è un modo di vivere una passione che ci accomuna ma che ci lega poi in sentimenti di amicizia, di grande condivisione, di cameratismo durante i nostri viaggi, le nostre zingarate che facciamo in giro, quindi è molto, molto di più che una semplice moto, è una passione, è uno stile di vita. Ecco, quindi riesce ad unirvi anche se magari vivete lontani, a distanza, anche se magari non vi vedete tutti i giorni, quindi un po' come internet può unire le persone, anche se sono a distanza la stessa cosa può fare un Harley? Beh, l'Harley devi sapere che riunisce praticamente un milione e trecentomila soci che sono sparsi per tutto il mondo, quindi è una condivisione di persone in tutto il pianeta e sì, direi che molto più di internet anche. Perfetto, allora buona Harley Davidson a tutti. Buona Harley Davidson a tutti, assolutamente. Grazie.